Grazie Fabio, scusatemi per la voce ma ieri ho fatto nove incontri pubblici in Veneto e quindi l'ho lasciata sulla via di San Marco, anzi buon 25 aprile, buona festa di San Marco a tutti voi e alle migliaia di persone che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento su Radio Padagna Libera e non ci vedono però fategli sentire la sala come... Mi spiace per chi magari non è qua perché magari nei giorni scorsi ha letto il giornale e pensava di doverci arrivare con l'elmetto e lo scudo perché non pensavo che fare un incontro pubblico a Reggio Emilia fosse così complicato, pensavo che fossero altre le zone del Paese dove qualcuno decide chi può parlare e chi non ha il diritto di parlare, dove sta il bene, dove sta il male, mi invito e vi invito a non perdere neanche 5 secondi di tempo dedicando l'attenzione a gente che se ci fossero qua i partigiani quelli veri prenderebbero a schiaffi loro per primi. Mi spiace per i partigiani che ci hanno magari rimesso la pelle per liberare questo Paese che oggi la cui memoria è infangata da giovanotti che hanno la villa al mare, la villa in montagna e che fanno i comunisti a tempo perso perché il papà ha tanti soldi in banca. Vorrei sapere quanta di questa gente che vorrebbe impedire alla Lega di parlare si alza alle 5 della mattina per andare in fabbrica o per andare in bottega. Secondo me sono pochini, però gli abbiamo già dedicato troppo tempo. Torniamo a cose serie. Renzi stamattina ha twittato. Le persone serie twittano e quindi lui ha twittato viva l'Italia libera. Evidentemente è sintonizzato su canale 5 ma di vent'anni fa. Io ho ritwittato dicendo se ci piglia per scemi perché fra l'euro tedesco e le migliaia di clandestini che sbarcano ogni giorno l'Italia non è mai stata così occupata, preoccupata e disoccupata. E quindi la nuova liberazione spetta a noi. Spetta a noi. E quindi sono orgoglioso di provare a liberare il Paese tutto. Noi siamo Lega Nord, ci battiamo per il Nord, però io dal 5 all'8 maggio avrò degli incontri simili a questo nell'ordine a Catania, La Mezzia Terme, Taranto, Bari, Napoli, Viterbo, Frosinone e Cagliari. Non perché la Lega ha cambiato pelle, ma perché per fortuna ne rimaniamo l'ultima speranza per tanta gente che non si fida più della destra e della sinistra, ammesso e concesso che esistano destra e sinistra, e neanche del presunto nuovo grillo che sull'euro e sull'immigrazione ha tirato a tutti gli italiani due sole, come dicono a Roma incredibili, cancellando il reato di migrazione clandestina e balbettando qualcosa sull'Europa perché non ha le palle per dire fuori dall'euro. Mentre noi le palle invece ce le abbiamo e lo diciamo con coraggio e convinzione. Vi do tre flash e poi cedo il microfono. Uno, viviamo un momento particolare per non dire preoccupante e quindi vi chiedo di essere comunità, di stare attenti, di essere sorridenti, di stare uniti, perché uno Stato che mette in galera per 20 giorni 24 persone che non hanno fatto del male a nessuno, che sono state intercettate e pedinate per due anni in ufficio, in azienda, in trattoria e l'unico capo di imputazione sulle loro spalle è che hanno progettato l'indipendenza e hanno provato a trasformare una ruspa in un carro armato, è uno Stato preoccupante. Io sono andato nel carcere di Verona martedì a visitare gli ultimi quattro pericolosi presunti terroristi. Dovevate, scusate, essere con me perché la prima di questi presunti terroristi che ho incontrato in carcere era un'arzilla nonna di 67 anni che la cui preoccupazione oi Salvini benvenuto e abbiamo parlato dei nipotini, quindi non abbiamo parlato della rivoluzione a mano armata. Abbiamo parlato dei suoi nipotini a casa, le due compagne di Cella altrettanto sovversive erano una signora di 50 anni che ha dentro anche il marito a Rovigo, quindi hanno portato via tutto il nucleo familiare di persone pericolosissime evidentemente e mi diceva l'unico aspetto positivo è che io per 30 anni mi sono alzata alle 4 della mattina per andare in fabbrica, qua è 20 giorni che mi faccio gli affari miei e quindi quantomeno seppur in posto un po' particolare ho dormito un po' di più, la terza era incazzatissima perché a 51 anni mi ha detto io ci ho messo degli anni a smettere di fumare e qua ho ripreso a fumare perché sai non è che ti portano in galera tutti i giorni e quindi ho dovuto riprendere a fumare. Noi ridiamo e scherziamo, poi sono andato a trovare il compagno di una di queste che fa un mestiere pericolosissimo, infatti ho detto ma potevi fare il geometra, l'architetto, il medico, l'agricoltore nella vita ha scelto di fare il fabbro ed era quello che armeggiava sulla ruspa quindi questo gli daranno l'ergastolo probabilmente. Noi sorridiamo però è pericoloso uno stato che domani magari vi suona il campanello alle 5 della mattina e voi smettete di essere infermieri, sarti, artigiani, pensionati, nonni, pasticceri e per un mese diventate terroristi. Poi vi rimandano fuori dicendo scusate abbiamo sbagliato i terroristi stanno da un'altra parte però chi restituisce il lavoro, la dignità, la famiglia, la sofferenza a queste persone. È uno stato che si riduce in queste condizioni, è uno stato che ci deve preoccupare. Noi abbiamo fatto subito come Lega abbiamo reagito non perché erano indipendentisti o leghisti, anzi alcuni di questi con la Lega non c'entrano assolutamente niente ma se arrestano delle persone per delle idee uno che è sinceramente democratico deve alzare la voce da destra, da sinistra, da sopra, da sotto. Se arrestassero 24 sindacalisti della CGL per le loro idee io sarei in piazza a difendere la libertà di pensiero e di parola per chiunque e quindi mi stupiscono quelli che invece non lo capiscono, ammesso che in CGL ci siano ancora delle idee però questo è un altro discorso e lo facciamo in un convegno a parte ancora a Reggio Emilia così si incazzano un'altra volta. Però facciamo un convegno sulle cooperative rosse e sui sindacati, sulle pseudo cooperative rosse e sugli pseudo sindacati però lo facciamo il prossimo giro così una volta alla settimana costringiamo quelle lì alzarsi presto la mattina. Quindi occhio e stiamo uniti, se toccano uno di noi toccano tutti e quindi a maggior ragione quest'anno Pontida domenica 4 maggio non è una solita manifestazione, domenica 4 maggio Pontida deve esplodere di bandiere, di sorrisi, di entusiasmo, di coraggio, di futuro. Io ieri venendo a Treviso ho sentito per telefono una mamma che sarà per la prima volta a Pontida quest'anno con il marito e il figlio ed è la mamma di una ragazza che è morta il venerdì santo e saranno con noi perché hanno scoperto che la Lega è una famiglia, non è solo un partito, non è un movimento ma è una comunità e quindi spero che ci siate tutti anche per ricordare coloro che hanno fatto un tratto di strada con noi e non ci sono più. Quindi vi aspetto tutti domenica. Detto questo, noi stanno parlando di euro sicuramente perché stanno facendo, noi li sfidiamo, noi sfidiamo Renzi e tutti quelli che chiacchierano sui progetti concreti. All'ingresso ci sono i moduli per il referendum. Io vi chiedo la cortesia di darmi una mano perché se arriviamo a 500.000 firme io mi tolgo la soddisfazione di chiamare Matteo Renzi e di portargli sulla scrivania 500.000 firme per cancellare la legge più infame degli ultimi anni che è la legge Fornero che ha rubato diritti, lavoro e pensioni a milioni di italiani e io voglio che siano 60 milioni di italiani a dire no a una legge infame, a restituire diritti acquisiti a milioni di persone e poi voglio vedere il giullare di Firenze e come risponde. Quindi se ci diamo una mano, soprattutto in Emilia, vi chiedo di portare a firmare gente leghista, non leghista di sopra e di sotto, se ci diamo una mano cancelliamo la legge Fornero, recuperiamo diritti, dignità, lavoro e futuro e diamo due ceffoni metaforici alla Fornero e a Renzi che per me sono esattamente della stessa pasta. Quindi mi auguro che l'Emilia porti una marea di firme da questo punto di vista e il giorno di Pontida lanceremo anche il sesto referendum, purtroppo ci siamo solo noi a fare certe battaglie, che chiederà di reintrodurre quello che in mezzo a Europa è già in vigore, ovvero sia il reato di immigrazione clandestina, perché senza permesso e senza documenti. Quindi sono tante battaglie, i giorni sono solo 30, quindi non da segretario ma da militante e fra militanti vi chiedo di dare anima, corpo, voce, cuore, idee, sorriso in ognuno di questi 30 giorni, perché il singolo voto di Bondeno, di Castel San Giovanni, di Modena, di Bologna, di Firenze fa la differenza. Non guardiamo i sondaggi, io non li guardavo quando erano brutti, a maggior ragione non li guardo adesso che sono belli, che l'aria sia cambiata penso lo percepisca ciascuno di voi. Ieri a Treviso alla fine del convegno ho parlato con tanta gente che mi ha detto io non votavo da 5 anni, io non votavo da 10 anni, io l'anno scorso ho votato Grillo, la mia famiglia votava Berlusconi, tutta gente che per le battaglie che stiamo facendo il 25 maggio verrà a votare Lega, quindi dobbiamo tenere acceso il fuoco, non fidiamoci di questi sondaggi 4, 5, 6, 7, fino al 25 maggio noi ci dobbiamo sentire al 3,99% perché ogni singolo voto recuperato ha un indeciso che dice ma tanto il mio voto non cambia niente o l'Europa cambia adesso o non cambia più, o il treno cambia binario adesso o non cambia più, perché altri 5 anni non ce li possiamo permettere. Io penso che l'economia italiana, l'economia emiliana, l'economia padana non abbia, non dico 5 anni ma neanche 5 mesi da aspettare. In questi ultimi 5 anni a Bruxelles l'abbiamo combattuto soli contro tutti, in 30 su 700 e capisci che in 30 su 700 qualche battaglia la vinci ma tante battaglie le perdi. Sto giro cambia la musica perché non siamo più i soli scemi contro tutti, questo giro arrivano i francesi, arrivano gli olandesi, arrivano gli austriaci, gli svedesi, i finlandesi, arriva quella cattivissima della Le Pen, prima una giornalista mi ha detto quasi inorridita, ma voi siete alleati con la Le Pen, ciumbia sì e non mi ha neanche attaccato la tubercolosi, siamo alleati con la Le Pen che non sputa in faccia, mangia con le posate, non picchia gli anziani e i bambini ed è primo partito in Francia, o i francesi sono diventati tutti dei pericolosi nazisti, oppure il fatto che in Francia si sia un partito che dice prima i francesi, stop all'immigrazione incontrollata, via dall'euro, no al fanatismo islamico, vengono prima i nostri disoccupati rispetto ai disoccupati di tutto il mondo, o è razzismo o è buonsenso. Secondo me è buonsenso, ma se per qualcuno è razzismo io mi autodenuncio, sono profondamente razzista, quindi dico prima i padani, prima gli italiani e quindi non saremo più soli e se a Bruxelles il 26 maggio quello che per loro è un incubo diventerà realtà, invece di 30 rompipalle avranno in Parlamento 100, 150, 200 oppositori veri, ma non alla grillo, oppositori veri e allora in 200 la musica cambia. E allora se siamo in 200 dovranno sudare e faticare per far passare le loro porcherie, per massacrare l'agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo, l'artigianato. Ci do la parola a Claudio perché dietro la moneta unica il progetto pericoloso è quello del pensiero unico, vogliono le cose uniche, ci hanno detto per 10 anni in televisione che è piccolo e brutto, bisogna essere grandi, pensa quanto è bello grande, l'Europa è un grande mercato, ci sono grandi possibilità, grandi aziende agricole, grandi centri commerciali, grandi casermoni popolari, però quasi mai quantità fa rima con qualità, quasi mai quantità fa rima con qualità, anche perché il piccolo, il soggetto, l'uomo, la donna, dal loro punto di vista ha un gravissimo difetto che non ha la massa. Il singolo, il piccolo, l'artigiano, l'individuo ha un gravissimo difetto che ogni tanto si ferma e pensa. No, non devi fermarti a pensare, tu devi avere la preoccupazione del mutuo, di consumare, di produrre sotto pagato e di crepare. Nasci, produci, consumi e crepi. Guardi in televisione quello che ti dico io, leggi il libro che ti dico io, ascolti la musica che ti dico io, mangi il formaggio che ti dico io, compri la macchina e la camicia che ti dico io. Ogni tanto, forse ancora per un po', ti faccio votare, però con prudenza, perché la gente magari vota non come voglio io e quindi cancelliamolo il Senato. Anzi no, il Senato lo teniamo, però non lo facciamo eleggere. Le province le teniamo, però non le facciamo eleggere. Io non sono per il grigio, o è bianco o è o una cosa serve, o una cosa non serve. Se una cosa serve, la eleggo io, se una cosa non serve, la cancello. E loro stanno radendo al suolo con Renzi, che è uno pericolosissimo, simpaticissimo, ma pericolosissimo strumento di distruzione di massa. Loro, col sorriso sulle labbra, ci stanno prendendo abbastonate sui denti. Stanno cancellando uno via l'altro tutti i presidi di democrazia esistenti. I piccoli comuni sono brutti, cancelliamoli. Le province non servono, cancelliamole. Le regioni, col titolo quinto, ma sprecano, perché le regioni fanno i pranzi, le cene e comprano le mutande. Li portiamo tutto a Roma e quindi a Bruxelles, via i comuni, via le province, via le regioni, via il Senato. La politica non serve la politica, è una roba brutta. Bastano due o tre intellettuali, professori, economisti, tecnici. La politica è una roba da perditempo, da ladri, da falliti. Senza politica arrivano i regimi. La prima cosa che i regimi vanno a colpire, oltre l'economia, è il pensiero. E questi vogliono ridurci a esseri non pensanti, la cui unica preoccupazione è di arrivare al 27 del mese limitando i danni. La Lega sta restituendo all'uomo e alla donna la dignità e l'orgoglio di essere uomo e donna. Siamo uomini e donne. Siamo uomini e donne che vogliono pensare, che vogliono vivere e non sopravvivere. Io ho un figlio di 11 anni, non posso lasciare mio figlio, il deserto e la scelta o di andare all'estero o di tirare a campare. No, qua abbiamo di tutto. Abbiamo un patrimonio culturale, abbiamo una sapienza, una ricerca, una fatica, abbiamo le cose più belle del mondo. Usiamole, valorizziamole, liberiamoci dalla gabbia. Ecco, mi piacerebbe che magari uno degli urlatori si fermasse per dieci minuti a pensare, a pensare è la gabbia che ci stanno costruendo intorno. E allora i casi sono due. O ti arrendi e ti rassegni e allora basta, è tutto inutile, non perdo tempo, non voto, non mi interessa o fai la battaglia. Se fai la battaglia o vinci o perdi. Se non fai la battaglia perdi sicuramente. Se fai la battaglia puoi vincere o puoi perdere. Io non so se vinceremo o se perderemo, però sono orgoglioso che ci sia una comunità sveglia, pensante, orgogliosa, che pensa al futuro e che ha voglia di fare battaglia. Viva la Lega, viva l'Emilia, viva Reggio e grazie a voi tutti.